Ciao ragazzi siamo qua con Liam e la sua sorellina che sta facendo l'aereo sol Ecco qua lì, ciao da Liam Ciao Ecco qua voi Liam con le sue macchinette Cosa farà oggi? Lancerà le macchinette due alla volta Vediamo quale macchinette vincerà Vai Liam faccio vedere le prime due che lancerai Ok vai caricale Ha vinto con la rossa Ma anche questa dobbiamo fare Perché guardate i regolini da qua No, guardate i regolini da qua Questa stava andando E la spada è stare più così Perché ha passato prima lei Perché si possa prima la lancerà qua Perché vedete È normale Chi ha vinto a fare i due a due Queste qui le mettiamo qua Con le più belle Vai Sia contro scagnazzo cane di schipi di schipi schipi di contro la pulizia puli Ma è che rifacciamo, rifacciamo Ciao Boba Cosa 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 Anche l'oro Anche l'oro Anche la mamma non ti fa Anche l'oro Anche l'oro Adirittura Mamma Questa è mia Quale sarà in questo canale? No Non lo facciamo Non lo facciamo Questa è la partita Oh hai visto quella verde barone? no no metti quella verde davanti dai quella blu dietro ehi io è tornato come si chiamava? Hearthshaker Tornate la master track Hearthshaker L'ha ajustato il nonno Io voglio quella gialla No, io voglio questa due Gialla contro Bunch No Marcellus contro Bunch E vince Che vinto Che vinto Che vinto Che vinto Vai Liam Sì, ha vinto Con la verde Mamma, qual è che hai? È con la verde Dai, mamma Vai Arma 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 Hai sbagliato Hai sbagliato Amore Mi dispiace Ma è perché così dopo Perché Ma anche Mi vedi Aダ ma come si chiamava carda e asada carda e asada contro ciambella questa carda e asada contro la ciambellora ciao liam grazie delle tue magnifiche gare grazie